Sono 11 le organizzazioni dedicate alla falsificazione di banconote, monete, valori bollati e documenti di identità, sgominate dai carabinieri con l'operazione denominata Giotto, condotta stamani in tutta Italia per l'esecuzione di 109 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui una cinquantina in Campania. Le organizzazioni, secondo quanto emerso dalle indagini, erano distinte l'una dall'altra ma avevano costituito un vero e proprio cartello per la produzione e la capillare distribuzione degli euro falsi su tutto il territorio nazionale con diramazioni in Germania, Spagna e Lituania. Le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e del comando antifalsificazione monetaria di Roma con i carabinieri del comando regionale della Campania e coordinate dalla DDA Regina hanno permesso di individuare gli assetti organizzativi e le gerarchie interne, i collegamenti, i modus operandi per la produzione, lo stoccaggio e l'immissione nella rete distributiva della valuta falsa, nonché i collegamenti con criminalità organizzata, in particolar modo quella campana. Nel corso delle indagini sono state sequestrate banconote false per oltre 1.240.000 euro e sono stati sequestrati quattro laboratori clandestini. I componenti della banda emerso durante le perquisizioni dei carabinieri falsificavano anche i pergamini di laurea con l'effigio dell'Università della Sapienza di Roma. Dal materiale trovato infatti sono spuntate anche le pergamini della Sapienza. Secondo quanto riferito dagli investigatori a Melito Portosalvo venivano falsificate le marche da bollo, mentre per monete e banconote provvedeva il ramo campano dell'organizzazione.